Giovanni Alfieri dell'Olimpia agnonese, un'altra vittoria, la seconda di fila dopo quella di Giulianova. La prestazione c'è stata sempre, soprattutto nelle ultime partite, come ha argomentato anche mister Di Rosa. Si poteva fare qualcosa in più anche al secondo tempo per chiuderla prima? Sì, hai ragione. La seconda vittoria di fila, io ero lì a Giulianova anche mercoledì e la squadra ha risposto bene. Oggi il secondo tempo il Porto San del Pidio ha fatto qualcosa in più, forse meritava qualcosa in più della sconfitta. Però tante volte è capitato a noi di meritare e non abbiamo segnato, questa volta è toccato all'Olimpia agnonese portare a casa i tre punti. Si è chiuso il vostro quadro personale di recuperi, si tornerà in campo domenica contro il Fiuggi, ora si gioca per evitare l'ultima posizione? Sì, si torna domenica con il Fiuggi, abbiamo ancora quattro partite e l'intento della società e dello staff è di vingerle tutte e quattro. L'impegno da parte dei ragazzi non è mai mancato, non sta mancando, quindi dobbiamo dirgli un grazie a tutti quanti i ragazzi perché anche con il fatto della festività loro martedì tornano ad allenarsi senza fare una vacanza troppo lunga, visto che è mercoledì e festa nazionale. Sì, se si può naturalmente la società sta già pensando alla prossima annata. Sì, per il momento pensiamo più a chiudere dignitosamente questa stagione, però sicuramente tu sai bene che sono 13 anni che l'Olimpia agnonese pensa alla stagione successiva già da molti mesi prima che cominci. Sì, è stata una costanza di questa società che si è contraddistinta appunto nel corso degli anni. Sì, è una costanza e cerchiamo di mantenerla. Da parte mia ci sarà sicuramente una mano anche per la prossima stagione e cerchiamo di organizzare nel migliore dei modi, non come siamo partiti quest'anno.